Il dato rappresenta ciò che è direttamente presente alla conoscenza. L'informazione rappresenta i dati all'interno di un contesto specifico. In altre parole, i dati diventano informazioni quando vengono elaborati in modo da soddisfare una richiesta informativa. Ad esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 è un dato. Sappiamo che è un numero, senza necessità di spiegazioni. Mario Rossi è un dato. Sappiamo che è un nome. Ma quando chiediamo qual è il numero di conto corrente del cliente Mario Rossi, ecco che i due dati diventano una informazione. Può risultare utile nelle nostre attività e nel nostro lavoro quotidiano creare e gestire degli archivi destinati a contenere informazioni, delle vere e proprie banche di dati. Un database è una collezione di dati utilizzati per rappresentare informazioni di interesse per un sistema informativo. Un database è uno strumento per la raccolta strutturata di informazioni. Strutturata perché i dati sono organizzati secondo criteri logici che facilitano sia l'utilizzo che la loro gestione. Un database è formato da record ed ogni record è formato da campi. Il termine tecnico per definire un record di un database è tupla. Il termine tecnico per la raccolta strutturata di informazioni.